Camminare insieme è il podcast della comunità diocesana di Reggio Calabria Bova, che ti propone le riflessioni dell'arcivescovo Fortunato Murrone. Buongiorno e buona domenica. Gesù ha scelto, potremmo dire, la metodologia delle parabole per annunciare il regno. E' una scelta fondamentale che troviamo sostanzialmente in tutti e quattro i Vangeli, in modo particolare nei Sinottici. E oggi abbiamo l'esempio di due parabole, piccole ma molto interessanti. Ecco, con parabole, con queste due in particolare, Gesù ci narra come Dio la pensa, Che cosa pensa di noi? Come Dio agisce? Certo, lui agisce non senza di noi, in questa storia, che è sua e nostra allo stesso tempo. Le due parabole che oggi ascoltiamo mettono in evidenza due aspetti che sono connessi intimamente. Dalla parte c'è la piccolezza e poi si mette in evidenza la crescita. Immagini che indirettamente troviamo anche nel brano di Ezechiele, che la liturgia di oggi ci presenta. Il seme con cui Gesù parla del regno non può crescere se non è seminato, ma una volta seminato sprigiona un'inaspettata forza misteriosa che lo porta a crescere e a maturare in spiga, generando una moltitudine di nuovi semi. È un miracolo! Il seme, cioè il regno di Dio, potremmo dire il Vangelo, allora il seme è di Dio, Dio che è origine di tutto. Ma questo seme, una volta seminato, potremmo dire annunciato dal contadino nella terra, cioè nella vita delle persone, e poi accolto, o meglio, quando è accolto, giungerà prima o poi al suo compimento. Interessante la sottolineatura del Vangelo. Come? Il contadino non lo sa. Sembra che Gesù ci voglia dire che non spetta agli annunciatori, ai seminatori del Vangelo, conosce i tempi e i modi della maturazione del seme. Il loro compito, il nostro a questo punto, di chi, cioè, mette in gioco la propria vita, lì dove si trova a vivere, nella vocazione particolare, quindi il loro compito, il compito degli annunciatori, il nostro compito, non è fare proseliti, confidando nelle performance personali, nelle capacità personali, ma il compito è seminare, annunciare la parola di Dio, il Vangelo, con tanto, anzitutto, sulla sua intrinseca potenza. Il regno di Dio non è il nostro. Noi siamo chiamati a collaborare. Nella parabola c'è perciò un invito alla pazienza e al realismo. Ogni terra, ogni persona, ha una sua singolarità, una sua dinamicità, un suo sviluppo, una sua maturazione, come lo è la vita, già presente in tutta la sua potenzialità nel seme. E allora forte risuona nelle due paraboli il richiamo alla fiducia nello Spirito del Signore che è sempre presente, sempre all'opera nel cuore di tutti e sempre anticipa e sorprende il più delle volte coloro che generosamente e con passione annunciano la parola, il Vangelo, Gesù stesso. Buona domenica. Hai appena ascoltato Camminare insieme. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti a questo canale podcast per non perdere nessuna delle riflessioni dell'Arcipescovo Fortunato Morrone. Se vuoi approfondire questi o altri temi, ti invitiamo a visitare il sito avveniredicalabria.it Il quotidiano online a cura della redazione dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della diocesi di Reggio Calabria Boba.